Come vi accennavo, oggi vediamo come funzioni, che cos'è un oscilloscopio. L'oscilloscopio nasce fondamentalmente per andare a riportare su uno schermo XY un andamento di un segnale in funzione del tempo. Quindi, mentre fino adesso abbiamo studiato strumenti che misurano, nel gergo si chiama misurare nel dominio delle ampiezze. Che vuol dire misurare nel dominio delle ampiezze? Un multimetro mi dà il valore, se è una tensione continua, il valore dell'ampiezza del segnale di tensione continua. Se è una tensione alternata mi darà il valore efficace, il valore massimo. Cioè, sono tutti strumenti che, dato un segnale variabile nel tempo, mi tirano fuori un parametro legato all'ampiezza del segnale. Poi, ripeto, ampiezza in senso lato, può essere valore efficace, può essere valore medio, e così via. Esistono altri due domini in cui posso fare misure. Quello di cui ci occupiamo oggi è il dominio del tempo. Nel senso che io vado a vedere non solo l'ampiezza, ma come varia l'ampiezza di un segnale nel tempo. Esiste un terzo dominio in cui facciamo misure, che è un dominio di cui non ci interesseremo in questo corso, che è il dominio delle frequenze. Nel senso che ci potrà anche interessare non solo vedere come variano le ampiezze in funzione del tempo, ma come l'ampiezza di un segnale varia al variare della frequenza. Qual è il contenuto spettrale di un segnale? Diciamo, usando una terminologia di controllo, di perere dei sistemi, sono i diagrammi di Bode. Andare a fare una misura di ampiezza e fase, eventualmente, in funzione della frequenza. Sono analizzatori di spettro, analizzatori di forme d'onda, di cui non ci interessiamo in questo corso. È un tipo di analisi molto importante, perché adesso, se pensate quanti segnali sono legati alla frequenza, alla sintonia di un televisore, di una radio, piuttosto che il funzionamento di un telefono cellulare, siamo interessati non solo a quanto è grande un segnale, non solo a come varia nel tempo, ma anche qual è la frequenza del segnale, quali sono le varie frequenze contenute di un segnale. Allora, limitiamoci al dominio del tempo, e vediamo in che modo possiamo andare a riportare su uno schermo, che è un quadratino di una dimensione 10 cm x 10 cm o poco meno, l'andamento di un segnale nel tempo. Io uso il termine segnale in senso generico, in realtà questo è uno strumento che riporta sullo schermo l'andamento di una tensione in funzione del tempo. Però, se voi pensate ad esempio, che se la tensione è la caduta di tensione su una resistenza di valore noto, l'andamento di questa tensione nel tempo non è l'andamento della tensione, ma è l'andamento della corrente nel tempo, perché se la tensione è la caduta di tensione, la resistenza è nota, posso vedere anche l'andamento di una corrente. Se sono stato in grado di trasformare in una tensione un'altra grandezza fisica, una pressione, una temperatura, la trasformo in tensione, dopo averla trasformata in tensione la posso vedere su un oscilloscopio. Quindi è vero che l'oscilloscopio vorrà in ingresso una tensione, ma tramite un opportuno condizionamento, tramite un opportuno circuito che mi trasforma in tensione un altro segnale, io potrò vedere sull'oscilloscopio grandezze di vario tipo. Quindi, parliamo di tensione, ma in realtà parliamo di visualizzazione in funzione del tempo di una qualunque grandezza fisica. ripeto, l'unico problema sarà portarla in tensione, in qualche caso è banale, la corrente diventa tensione in maniera semplice, in qualche caso un po' più complicata, però se io voglio vedere l'andamento di un segnale del tempo la devo trasformare, questa grandezza, in una tensione. Come tantissimi strumenti, anche per l'oscilloscopio esistono oscilloscopi oscilloscopi di tipo analogico e oscilloscopi di tipo numerico, digitale. Ho resistito per numerosi anni, per fatti affettivi, a raccontarvi il funzionamento dell'oscilloscopio analogico, oramai se aprite il catalogo di un costruttore di strumenti, l'oscilloscopio di tipo analogico non viene proprio più messo a catalogo. Li trovate ancora nelle industrie, perché la gente le cose le compra, non le butta. L'oscilloscopio analogico aveva una serie anche di vantaggi rispetto a quello digitale, però è un dato di fatto che la vostra generazione al 99% avrà a che fare con oscilloscopi numerici e quindi sono un paio d'anni che partiamo e tratteremo esclusivamente nel corso l'oscilloscopio digitale. Quindi sappiate che esiste un oscilloscopio analogico, ma di fatto andremo a vedere solo quello numerico. In quanto oscilloscopio digitale, qual è il cuore dell'oscilloscopio digitale? Il convertitore analogico digitale. Cioè non c'è niente da fare, così come nel multimetro il cuore del multimetro era un oggetto che portava dal mondo analogico al mondo numerico, anche nell'oscilloscopio numerico, tutta la strumentazione digitale si basa su questo tipo di dispositivo. Come vi ho detto in questo corso non entriamo nello specifico dei vari tipi di convertitore analogico digitale, sappiate soltanto che, così come nel multimetro, questo è un oggetto che prende in ingresso un segnale in tensione di valore, abbiamo detto 0, 10 volt, piuttosto che meno 5, 5 volt, insomma, questo ordine di grandezza e lo trasforma in un valore numerico, un insieme di bit. io voglio vedere andamenti di tensione nel tempo. Secondo voi mi può bastare vedere solo tensioni che sono di quest'ordine di grandezza? al solito no. Allora, è evidente che la prima cosa che dovrò fare sarà avere dei circuiti di ingresso che andremo adesso ad esplodere per capire bene quali sono i tasti che trovano il circuito di ingresso di un oscilloscopio, perché rispetto al multimetro il multimetro ha meno tasti, vedrete che nel multimetro voi dovete dirgli se volete misurare tensione, corrente o resistenza, se volete funzionare in continuo o in alternata e poi gli scegliete il range, cioè se volete lavorare a 10 volt fondo scala, 100 volt fondo scala, vi ricordate i blocchi del multimetro erano la scelta di quali degli ingressi considerare e poi se attivare o meno il convertitore a cdc e poi l'attenuatore amplificatore. Qui abbiamo qualcosina di più. Quindi, circuito di ingresso. Tutto questo è il mondo analogico, nel senso il segnale qua è ancora un segnale che varia con continuità in funzione della grandezza fisica che sto misurando. Da questo momento in poi il segnale è numerico. la prima cosa che faccio è devo avere una memoria perché mentre nel multimetro io dovevo misurare un valore l'ampiezza il valore efficace lo dovevo dare all'utente qua io devo misurare vari valori del segnale e riportarli in funzione del tempo. Quindi io ho bisogno di varie locazioni di memoria dove vado a mettere i vari valori che misuro per poterli poi riportare su uno schermo nello strumento è presente sicuramente un bus di comunicazione il termine bus è un termine molto utilizzato in ambito hardware informatico computer e intendetelo come un insieme di fili un insieme di fili in cui afferiscono in parallelo una serie di una serie di dispositivi se voi prendete un computer i vecchi computer erano un po' si vedeva meglio il bus quando avevate i vecchi scatolotti dei vecchi computer avevate le schede messe e sul fondo sul backplane del computer avevate proprio questi fili dove vedevate le schede affedite a questo bus accedono sicuramente dovete immaginare che in questo dispositivo è presente sicuramente un microprocessore nel senso l'oscilloscopio numerico inizia a diventare molto più vicino a un computer che ha uno strumento di misura o meglio è sicuramente dotato di potenzialità di elaborazione con una parte di interfaccia verso la misura però sicuramente avete un microprocessore avete una serie di interfacce ingresso-uscita che possono essere avete un tempo avevate oscilloscopi numerici con i dischetti adesso i dischetti non hanno più senso avrete le porte usb avete porte un tempo avevate porte seriali porte parallele adesso quasi tutte le porte di connessione sono andate come nei computer a finire nel mondo dell'usb che ha in qualche modo monopolizzato le modalità di comunicazione tra dispositivi numerici potete avere interfacce I.O. di tipo wireless bluetooth piuttosto che wifi quindi diciamo una volta che il segnale è diventato numerico una volta che il segnale è diventato una serie di bit potete immaginare una una comunicazione come qualunque dispositivo digitale più raffinato perché queste cose non le abbiamo evidenziate nel multimetro adesso alcuni multimetri più costosi sono anch'essi dotati di vera e propria microprocessore di vera e propria interfaccia ingresso-uscita però sono anche diffusi in multimetri basic e noi abbiamo visto un modello di tipo basic sull'oscilloscopio viceversa vediamo voi in laboratorio lavorerete sia con oggetti un po' più semplici sia a secondo dei vari gruppi della riesercitazione vedete anche qualche oggetto un po' più raffinato fino ad avere oscilloscopi che sono degli aeroplani diciamo in termine diciamo volendo dire che sono oggetti con potenzialità veramente evolute di elaborazione del segnale perché una volta che questo segnale io ce l'ho una volta che io ho dei ho riportato del segnale i valori numerici poi su questo segnale mi può venire in mente di fare l'area di fare di calcolare il valore medio di prendere un segnale e prenderne un altro e farne il prodotto di farne il rapporto cioè posso su un oggetto che è diventato un numero fare qualunque tipo di elaborazione mi venga in mente di fare o a sovrintendere a tutto questo processo c'è però ancora un circuito di trigger che vedremo ha una importanza notevole nell'interazione sia con la memoria che con il convertitore analogico digitale nel bus vedremo che sarà presente anche un'altra memoria oltre a quella strettamente connessa alla conversione analogico digitale questa sarà una memoria chiamiamola di acquisizione questa è una memoria di visualizzazione vediamo poi un po' meglio perché tutto questo ma andiamo per gradi partiamo dal segnale in ingresso e vediamo il segnale in ingresso che tipo di vicessitudini deve vivere prima di arrivare al convertitore analogico digitale ho questo schema blocchi è molto qualitativo per cui magari anche stesso vi trovate qui evidenziate qualche altra cosa ma diciamo gli oggetti su cui ci soffermeremo sono circuito d'ingresso convertitore analogico digitale circuito di trigger e memoria ok allora vediamo il circuito d'ingresso il primo blocco che trova il mio segnale è un blocco che prende il nome di coupling coupling vuol dire accoppiamento e vediamo che il mio segnale può andare direttamente agli stadi successivi oppure e quindi si parlerà di direct coupling il mio segnale può procedere ma dopo essere passato per un condensatore allora questo è un interruttore per cui voi potete scegliere direct coupling alternate coupling ground che vuol dire direct coupling che vuol dire alternate coupling e che vuol dire ground allora direct coupling vuol dire accoppiamento diretto il segnale così com'è prosegue non facciamo nulla attenzione a c di c non mi venite a dire corrente continua corrente alternata tensione continua tensione alternata c sta per coupling accoppiamento diretto se io scelgo nell'ingresso accoppiamento diretto vuol dire che non voglio che sia fatto nulla sul segnale che succede a un segnale che passa per un condensatore il condensatore rappresenta un filtro passa alto passa alto passa passa ricordate il condensatore offre un'impedenza 1 su omega c la continua viene bloccata ok frequenza 0 impedenza infinita la continua si blocca quindi se io metto qui un condensatore ho un accoppiamento alternato nel senso se nel segnale c'è una continua questa continua non passa a che mi serve un collegamento di questo tipo immaginate che voi avete un segnale che è fatto così e voi siete interessati a studiare questa oscillazione tutta sta continua che ci sta vi dà fastidio oppure prima siete andati in direct coupling l'avete visto sullo schermo avete misurato quanto vale questo valore poi volete anche andare a studiare meglio questa oscillazione vi levate la continua come vedremo tra un attimo poi posso amplificarla e mi vado a sfruttare bene lo schermo perché poi voi sempre avete uno schermo davanti che è vi ho detto 10 cm per 10 cm per cui alla fine se dovete vedere anche la continua questa oscillazione la vedete piccola piccola allora l'alternate coupling vi serve per studiare andamenti alternati con una componente continua più elevata e che quindi volete che in qualche modo non vi interessa a cosa serve la connessione a ground vedremo tra un attimo che un'altra cosa che è sempre possibile fare ad un segnale quando lo sto visualizzando è sempre per vederlo meglio sullo schermo è quello di tirarlo in alto o in basso immaginate di avere un segnale che è fatto così per vederlo bene sullo schermo vi conviene traslarlo verso il basso in maniera che lo traslate verso il basso e poi lo amplificate sempre con l'obiettivo di leggere al meglio vedremo che tra un attimo che leggere al meglio vuol dire fare una misura con migliore precisione siccome è uno strumento di misura in cui quello che legge è l'occhio umano in realtà vedrete che lo strumento è anche dotato di cursori di capacità di leggere lui da solo senza pensare all'occhio umano però comunque vedere le cose meglio vuol dire fare le misure meglio allora immaginate che avete sullo schermo un segnale fatto così come distinguete un segnale che vedete così perché ha valore medio nullo o un segnale che è così perché era traslato e l'avete portato voi giù come lo fate a distinguere allora la cosa che generalmente si fa prima di iniziare la misura mettete l'ingresso a zero quando mettete l'ingresso a zero vedete dove sta il vostro segnale allora se voi vedete sullo schermo questo tipo di traccia vuol dire che voi l'avete abbassato se in ingresso non c'è niente ok quindi la possibilità di mettere l'ingresso a ground serve solo per levare l'ingresso e vedere un attimo l'oscilloscopio come è posizionato ragazzi come vi ho anticipato è un oggetto che ha un sacco di tasti tra l'altro oramai molti di questi strumenti funzionano con la logica dei menu per cui non ho tanti tasti ho pochi tasti e vari menu che mi si aprono io devo sapere che in qualche menu c'è il cubo tutta questa mia descrizione di che cosa c'è dentro è perché il cubo io so che deve esistere da qualche parte lo troverò anche se è un oscilloscopio che non conosco se voi salite su una macchina sapete che da qualche parte c'è la levetta che vi apre il cofano davanti se non è la macchina vostra certe volte è andato in difficoltà ma siete certi che il cofano davanti si deve aprire allora siete certi che in un oscilloscopio c'è il cubo come siete certi che dopo il coupling c'è un sistema di possibilità di attenuare l'attenuatore in un oscilloscopio come si fa ad attenuare un segnale in tensione allora il modo più semplice di attenuare un segnale in tensione l'abbiamo già accennato la volta scorsa in una delle lezioni precedenti è quello di usare un partitore di tipo resistivo perché voi sapete che se io ho una tensione in ingresso V con 1 posso ottenere ad esempio questa che vale 9 e questa che vale 1 la tensione V con 2 quanto varrà? varrà V con 1 questa tensione è pari a questa resistenza 1 per la corrente che la attraversa la corrente è V con 1 diviso la somma delle due resistenze 10 ecco che con una con valori 9 e 1 voi ottenete una tensione V con 2 che è 10 volte la tensione in ingresso quindi per attenuare basta mettere delle reti di resistenza e di valore oppure il problema qual è? perché è un pochino più complicato tanto è vero che io qui sotto devo mettere un'altra parolina sotto attenuatore devo mettere attenuatore compensato il mio problema è che io con gli oscilloscopi voglio riportare sullo schermo andamenti del segnale anche con forme strane contenuti armonici particolari vuol dire che io devo avere che V con 2 è un certo una certa attenuazione rispetto a V con 1 con K che è costante qualunque sia la frequenza della mia V con X voi sapete penso in qualche corso vi è stato raccontato che un qualunque segnale nel tempo può essere visto come somma di diverse sinusoidi allora tu immagina che avete una sinusoide che è fatta un segnale che è fatto di una continua di una 50 Hz e di una 1 MHz se voi avete 100 volt fatte un po' di continua un po' di 50 Hz un po' di 1 MHz e la volete riportare a 10 volt la volete dividere di 10 voi dovete dividere di 10 la continua la 50 Hz e 1 MHz o di 9 la continua la 50 Hz e la 1 MHz cioè l'attenuazione deve essere la stessa per tutte le armoniche altrimenti il segnale non viene solo attenuato viene anche distorto e quindi voi vedete sullo schermo un oggetto che non è identico a quello di partenza voi dovete avere la possibilità di scalare ok? scalando tutte le sue componenti armoniche allora dovreste mettere o dei resistori che hanno un valore costante qualunque sia la frequenza in realtà il problema è che in questi circuiti dovete sempre immaginare che si annidano degli accoppiamenti parassiti c'è sempre nascosta qualche capacità che vi dà fastidio allora cosa succede se qua avete una capacità parassita quindi che non conoscete in continua quant'è il rapporto di attenuazione allora se rimettiamo leviamo i numeri e rimettiamo r1 r2 allora in continua la capacità non esiste la capacità in parallelo non esiste per cui v con 2 è uguale a v con 1 r1 scusate r2 r1 più r2 ok? ma man mano che aumenta la frequenza questa capacità inizia ad esserci e quindi questo rapporto non è più lo stesso come risolvete il problema visto che questa capacità non la conoscete non la controllate ci mettete voi delle capacità qua c con 1 e c con 2 dice visto che ci stanno delle capacità tanto vale che metto una capacità c con 2 io capacità in parallelo quanto vale il parallelo di due capacità? la somma delle capacità vuol dire che farò in maniera tale che c con 2 è molto maggiore di c con p per cui c con p è come se non ci fosse allora in questo modo ho eliminato una capacità ignota e ho messo una capacità che conosco però a me interessa che k sia costante per ogni f come faccio a far sì che sia costante per ogni f? allora il modo più semplice per farvi vedere qual è la condizione da realizzare è quando io dico per ogni f vuol dire che deve funzionare in continuo e quando la frequenza è il massimo della frequenza che io ho tenete presente gli oscilloscopi vengono proprio venduti quando vi vendono un oscilloscopio vi danno in generale due parametri un parametro è quanta memoria c'ha per cui voglio un oscilloscopio migliore di un altro perché c'ha più memoria l'altro parametro importante è la massima frequenza del segnale che posso avere in ingresso quindi avete oscilloscopi 100 MHz 200 MHz 500 MHz allora che vuol dire alla massima frequenza possibile in un parallelo capacità resistenza chi ci sta? c'è solo la capacità la resistenza non c'è più allora dire che è costante qualunque sia la frequenza vuol dire in continua ho R2 R1 più R2 in alternata quanto vale il partitore capacitivo? il partitore capacitivo vale C1 fratto C1 più C2 continua e massima frequenza devono avere lo stesso rapporto di attenuazione facciamoci due conticini R2 R2 C1 più R2 C2 deve essere uguale R1 C1 più R2 C1 R2 C1 R2 C1 se ne vanno la condizione la condizione che fa sì che l'attenuatore compensato attenui in maniera identica qualunque frequenza e che io abbia R1 C1 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 Siete tranquilli che qualunque sia la frequenza l'attenuazione è la stessa qua che comando avete su questo attenuatore compensato avete un comando che è uno dei più evidenti che c'è nell'oscilloscopio che è il comando volt a divisione che cos'è la divisione dell'oscilloscopio lo schermo dell'oscilloscopio è diviso in quadratini in generale trovate 10 quadratini sulla x e 8 quadratini verticali la divisione si chiama divisione il lato di questo quadratino quindi se io dico che quel comando ha scelto un volt a divisione che sto dicendo? sto dicendo che ognuno di questi quadratini verticali vale un volt quindi se ho un segnale che è fatto così che vada da qua a qua vuol dire che ha 3 volt picco picco perché ogni quadratino vale un volt allora siccome io la posso variare un volt a divisione due volt a divisione un millivolt a divisione 0,1 millivolt a divisione io riesco a vedere sullo schermo inserendo e disinserendo questi k di rc segnali di grandezza diversa quindi io qui vi disegno me ne disegno uno solo di rc ma ne abbiamo un certo numero ne ho una decina di scatti in questa manopola qui dopo l'attenuatore compensato ho una anche possibilità di amplificazione variabile perché? perché io non sempre devo ridurre qualche volta mi serve ampliare se io ho un segnale di un millivolt vi ricordate abbiamo detto che qui il segnale deve essere dell'ordine di 5 10 volt quindi devo poter attenuare e amplificare quindi in questo caso abbiamo un amplificatore quindi troverete anche qua un'altra manopolina con cui potete variare in questo caso in maniera fine il guadagno voi variate il guadagno di questo amplificatore e quindi vedete sullo schermo il segnale che cresce o decresce a valle di questo condizionamento avete un blocco che è sempre presente prima di ogni conversione analogico digitale in generale perché poi dedicheremo una lezione proprio alle problematiche generali del campionamento e della conversione ma se io devo passare dal mondo analogico al mondo numerico ho un dispositivo che impiegherà un po' di tempo per fare questa operazione cioè il convertitore analogico digitale non è che istantaneamente trasforma la grandezza da analogica a numerica impiega un po' di tempo se io mentre lui sta ragionando di quale sia il valore numerico corrisponente al valore analogico se nel frattempo gli faccio cambiare da sotto il valore analogico lui impazzisce non lavora bene allora l'operazione di trasformazione da analogico a numerico è fatta generalmente in due fasi campionamento e conversione allora questo scatolotto ho scritto sopra S sbarra H sta per sample hold campiona che vuol dire campionare vuol dire pesca il valore e mantienilo congelalo fino a quando il convertitore analogico digitale non è stato in grado di effettuare l'operazione di conversione è evidente che mentre il multimetro impiegava più tempo per fare la conversione perché un multimetro ogni quanto vi deve dare un numero e voi siete voi che leggete quindi a voi se vi da un numero più rapidamente che ogni decina centinaia di millisecondi voi che ve ne fate? sapete manco anzi vedete questo numero che cambia sullo schermo e vi accorgerete vi renderete conto che lo fa che vedete proprio visivamente se fosse più rapido che ogni centinaia di millisecondi sarebbe proprio inutile in questo caso viceversa voi volete tanti punti trasformati da analogico a numerico perché voi li volete vedere uno dopo l'altro in maniera tale è da vedere tutto l'andamento del segnale quindi durante la conversione anche rapida ma comunque con un tempo finito serve un oggetto che mantiene fermo il segnale vi ripeto su questi sample and hold ci ritorniamo in una lezione ad hoc allora a questo punto siamo arrivati al convertitore analogico digitale sulla conversione analogico digitale dobbiamo anche qui probabilmente qualcosa che già vi è stata raccontata in qualche altro corso bisogna rispettare un famoso teorema teorema del campionamento teorema di Shannon in Iquist criterio di Iquist lo trovate denominato sotto vari nomi insomma è qualcosa di cui avete sicuramente sentito parlare nel corso di controlli esiste appunto questo Shannon questo Iquist e ci hanno detto che se io voglio ricostruire correttamente un segnale io devo per forza utilizzare una frequenza di campionamento che deve essere maggiore o uguale di due volte la frequenza massima contenuta nel mio segnale altrimenti scatta un fenomeno che prende il nome di fenomeno di aliasing mai sentito parlare aliasing naiquist shannon questi sconosciuti eh no eh mai no vabbè basta che a volte a volte le scoperte poi vengono eh naiquist eh cioè il criterio di naiquist dice questo poi shannon l'ha applicato al settore della comunicazione e quindi ha ripreso queste eh questo stesso criterio era un comunicazionista famoso eh a proposito della possibilità di trasmettere informazioni lungo un canale quindi un po' alla fine sono cose molto legate eh vi ripeto su questi due concetti ci ritorniamo però eh già da adesso eh devo capire che ho un problema quando eh devo effettuare una trasformazione di un segnale nel tempo da analogico a numerico eh nel senso che eh se il mio segnale eh eh ha una massima frequenza pari a immaginiamo un megahertz eh io devo campionarlo ad una frequenza sufficiente ok quindi esiste comunque un limite massimo eh dei segnali che riesco a rappresentare va bene su questo vi ripeto eh ci ci ritorniamo eh vuol dire che io avrò un limite di ampiezza del segnale che posso rappresentare che mi viene dato dallo stadio d'ingresso io potrò avere non più di 100 volt non meno di tot millivolt o microvolt ma ho anche un limite su quale sono le frequenze massime che il mio dispositivo è in grado di gestire ok arrivato arrivato al convertitore analogico digitale io passo dall'analogico al numerico e metto in memoria questa memoria l'abbiamo detto un attimo fa non è una memoria infinita è una memoria limitata la memoria degli oscilloscopi eh è gestita eh si trovate scritto nei testi è una memoria circolare attenzione non è che trovate dentro all'oscilloscopio un salsicciotto della memoria è il modo con cui è gestito cioè il banco di memoria ha una gestione concettualmente di tipo circolare che vuol dire che vuol dire circolare che voi mettete un campione poi mettete il successivo poi mettete il successivo riempite la memoria cosa succede quando la memoria si è riempita tutta avete una gestione tipo fifo first in first out che vuol dire first in first out il primo che è entrato è il primo che esce vuol dire che quando avete riempito tutto lo spazio andate a riscrivere dove è sul punto più vecchio cioè voi state immaginate che state disegnando il vostro segnale sullo schermo e se arriva qualcosa più recente cosa perdete buttate via quello che è più vecchio allora immaginate che voi avete un segnale mettete il più nuovo perdete il più vecchio e quindi vedete questo segnale che scorre sullo schermo se voi vedeste un segnale che scorre sullo schermo riuscite a fare delle misure su questo segnale a voi serve che questo segnale sullo schermo sia fermo perché se è fermo potete contare i quadratini usare vedremo i cursori amplificarlo ridurlo vuol dire che io devo in qualche modo trovare una maniera per vedere sempre lo stesso pezzo di segnale allora immaginiamo di avere un segnale di tipo ripetitivo periodico se io voglio vedere il segnale fermo ho due possibilità sicuramente posso riempire la memoria e quando la memoria è finita mi fermo allora troveremo questa modalità di funzionamento dell'oscilloscopo si chiama single acquisition single shot poi ogni costruttore lo chiama in maniera diversa nel senso io mi prendo i punti quando la memoria è finita mi fermo però è la modalità meno utilizzata degli oscilloscopi perché l'oscilloscopo ha proprio il ruolo di voi volete continuare a vedere il segnale vederlo fermo se lui non si muove ma se lui sta modificando se vi piace vederlo che si sta modificando allora la modalità normalmente utilizzata dagli oscilloscopi è una modalità in cui io fisso una quantità di segnale che voglio vedere come faccio a vederlo fermo lo vedo fermo se fotografo il segnale in questo momento poi siccome è un segnale periodico se riesco a fare delle foto successive del segnale che partono dallo stesso punto da cui erano partite prima vediamo se vi faccio capire meglio immaginiamo che voglio vedere due periodi del segnale circa a partire dallo zero ok allora io vedremo tra un attimo posso anche regolare non solo la scala delle ampiezze ma anche la scala dei tempi e vedo il mio segnale poi il segnale lui prosegue allora io per questo distingo la memoria di acquisizione dalla memoria di visualizzazione io riempio la memoria quando ho riempito i punti che mi interessano li passo sullo schermo e mi rimetto ad acquisire quando è che ripasso nuovamente sullo schermo aspettate con due periodi precisi non si capisce bene immaginiamo che io voglio vedere un periodo e mezzo ok ora se io prendessi questi punti e li andassi a mettere sullo schermo e vedrei il segnale che mi cambia non vedo il segnale fermo vuol dire che io devo aspettare che mi ritorna lo stesso punto da cui sono partito come si fa a trovare un punto su un segnale questo punto come lo capisco livello 0 non basta il livello pendenza positiva ecco che rispunta il nostro circuito di trigger che fa sul segnale lo stesso che abbiamo visto fare nel contatore cioè io potrò scegliere da che punto partire con la visualizzazione con che ampiezza e con che pendenza quindi io scelgo col circuito di trigger il livello e la pendenza quindi avrò il comando di trigger level avrò il comando di trigger slope con cui stabilisco quando partire in realtà in questi strumenti io posso anche non solo stabilire quando partire ma l'istante di trigger cioè il punto di riferimento posso anche decidere che non mi interessa sia il primo punto dello schermo ma posso anche stabilire che sia in un qualunque istante della mia finestra di visualizzazione ripetiamo meglio io posso avere varie modalità di visualizzazione una modalità completamente post trigger nel senso fin quando il segnale non raggiunge il livello che gli ho detto e la pendenza e gli ho detto io non sono interessato arriva il livello e la pendenza da quel momento in poi prendo i mille campioni duemila campioni diecimila campioni che la mia memoria prevede quindi tutto post trigger posso anche ad esempio invece essere interessato a vedere tutto fin quando il segnale non raggiunge il livello della pendenza che ho scelto quindi vedere tutto in modalità pre trigger oppure poiché la mia memoria ha n locazioni l'istante di trigger lo posso piazzare al 325esimo campione al terzo al 28esimo ok posso scegliere in questa mia memoria circolare che una qualunque locazione sia quella di trigger vuol dire che se io ho n campioni in memoria nell'oscilloscopio numerico posso scegliere che m siano di pre trigger e n-m siano di post trigger ok allora come funziona la gestione la gestione della memoria prima era FIFO se io era tutto la memoria senza trigger cioè con io che campione vedo il segnale mi scorre vediamo invece come funziona nella realtà in cui ho sempre m campioni di pre trigger e n-m post trigger allora io sto lì e acquisisco il mio convertitore il convertitore non sa fare altro che acquisire si mette là trasforma trasforma da solo e riempio questa memoria immaginiamo che su istante i trigger non arrivano immaginate che voi avete scelto di che l'istante di trigger è questo 0 negativo e state qua prendete punti prendete punti prendete punti prendete punti ancora non arriva lo 0 pendenza negativa prendete punti prendete punti prendete punti e che succede che quando avete riempito gli m punti li gestite fifo buttate il più vecchio e riempite il nuovo buttate il più vecchio e riempite col nuovo buttate il più vecchio e riempite il più nuovo fin quando non arriva l'istante di trigger allora il vecchio m punti li avete e dovete prendere i valori successivi al trigger m-n riempite riempite gli m-n quando gli n punti sono finiti che fate? andate in visualizzazione ok? sto dicendo che il pre-trigger è gestito in modalità first in first out cioè avete fissato che volete m punti di pre-trigger 1 o 10.000 vi mettete lì e li riempite fin quando non vi arriva l'istante di trigger al momento in cui vi arriva l'istante di trigger finite di riempire la memoria e poi fermate quindi la parte post trigger non è in modalità fifo è in modalità si dice sequenziale cioè io la riempio poi una volta che è finita è finita e li metto nella memoria di visualizzazione fin quando non viene riempita nuovamente la memoria di acquisizione e c'è una successiva fotografia che siccome l'ho fatta identica all'altra cioè l'istante di trigger è lo stesso il segnale è ripetitivo io avrò sempre la sensazione di avere un segnale che sta là fermo in realtà l'oscilloscopio non è fermo ma sta continuamente acquisendo segnali solo che siccome il segnale è stabile e me lo va a rimettere nello schermo nello stesso punto di prima io avrò un segnale fermo sullo schermo è come se io facessi un fotomontaggio però di un oggetto fermo se l'oggetto è fermo vedo sempre la stessa immagine se l'oggetto si inizia a muovere perché il segnale leggermente si muove è e vedrò sullo schermo il movimento di questo segnale poi a seconda delle applicazioni posso essere interessato a a capire a fare le misure sull'intero segnale sul segnale che evolve ma questo lo si vede più facilmente vedete in laboratorio noi faremo due esercitazioni sull'oscilloscopio quindi giocherete con l'oscilloscopio per quattro ore proprio con l'obiettivo di di farvi un po' vedere le varie situazioni che vi possono capire al di là di quello che è poi l'aspetto questo modo di funzionare dell'oscilloscopio è quello che prende il nome di funzionamento in real time in tempo reale nel senso che vedo quello che sta succedendo non c'ho qual è il limite del real time l'abbiamo detto il limite del real time è Nyquist cioè se io ho un convertitore analogico digitale che ha una frequenza di campionamento massima di 1 gigahertz io posso vedere e trattare bene segnali fino a 500 megahertz in realtà la cosa è un pochino più meno rosea di come ve l'ho raccontata nel senso Shannon vi ha descritto un teorema che vale dal punto di vista matematico cioè dice che se io ho due campioni per periodo riesco a ricostruire correttamente il segnale secondo voi se voi avete un segnale così e avete un punto qui e un punto qui voi riuscite a capire qual è il segnale di partenza Shannon non dice che voi ci riuscite io vi dico che non si riesce cioè sullo schermo se voi lo strumento vi prende i punti per vedere voi dovete avere qualche punto se no sullo schermo non vedete niente allora in realtà in realtà quello che succede è che vi servono 4-5 punti a periodo quindi la situazione è anche un po' peggio di come la matematica cioè questo è uno di quei classici casi in cui mi rendo conto che i teoremi matematici mi dicono una cosa poi quando devo far funzionare gli apparati reali mi rendo conto che è una cosa che io matematicamente riesco a ricostruire il segnale se lo voglio vedere lì al momento la matematica mi serve a poco per fortuna gli oscilloscopi hanno anche un'altra modalità di funzionamento che prende il nome di modalità di funzionamento in tempo equivalente cos'è la modalità di funzionamento in tempo equivalente allora innanzitutto la modalità di funzionamento in tempo equivalente non vale per qualunque tipo di segnale ma vale esclusivamente per segnali di tipo ripetitivo cioè segnali segnale periodico è il più semplice caso di segnale ripetitivo nel senso c'ha un periodo segnale ripetitivo vuol dire che io immaginate che mandate una parola digitale unizeri poi dopo un po' di tempo la rimandate dopo un po' di tempo la rimandate se il tempo dopo cui la rimandate non è lo stesso questo segnale è ripetitivo cioè si ripete ma non è periodico non ha un periodo allora questa decchia va bene per segnali ripetitivi quindi diciamo è una categoria più ampia dei segnali periodici comunque per capirci facciamo l'esempio per segnale periodico perché è il segnale più semplice allora abbiamo due modalità di funzionamento in tempo equivalente il tempo equivalente sequenziale e il tempo equivalente asincrono vediamo cosa vuol dire tempo equivalente sequenziale immaginiamo di avere un certo istante di trigger in cui abbiamo preso un certo campione immaginiamo zero tendenza positiva e immaginiamo che questo segnale è molto rapido quindi io non riesco a rispettare scena non riesco a prendere altri punti nel periodo però immaginate che io ogni volta prendo un valore dopo un certo numero di periodi e ogni volta spostandomi di una quantità delta t immaginiamo immaginiamo qua ho preso questo punto qua prendo questo punto dopo un altro periodo prendo questo punto qui sto dicendo che il mio tempo di campionamento è pari ad un certo numero di periodi del segnale più delta t vedete quanto passa tra questi due campioni t più delta t delta t è questa quantità piccolina qua quanto passa tra questi due campioni ancora t più delta t se faccio passare t arrivo qua ci sommo delta t ottengo quest'altro campione se io adesso li prendo cioè li ho in memoria e li metto nello schermo non distanti t più delta t ma distanti delta t vedete poiché il segnale è ripetitivo io sono riuscito ad avere tanti punti a periodo campionando però molto più lentamente vedete qua io vi ho disegnato per motivi di lavagna ho messo n piccolo uguale ad 1 cioè ho campionato i punti dopo un periodo più un certo delta t ma io potrei aspettare anche 5 periodi 10 periodi vedete funziona ovviamente se il segnale è ripetitivo cioè se il segnale mi cambia non funziona più vedete questo è proprio un classico fotomontaggio cioè io sto prendendo una foto successiva e poi la prendo e la rimetto insieme come se fosse avvenuto subito e funziona se quello non sai niente si muove qual è il tempo di campionamento equivalente delta t cioè è come se stessi campionando ad una con un tempo di campionamento delta t perché i punti sono tra loro distanti delta t chi è che mi controlla questo funzionamento qual è il circuito che mi consente di capire che sono passati dieci periodi e poi lascio passare un tempo delta t sempre il mio circuito di trigger perché il circuito di trigger conosce il periodo quindi io immaginate che devo fare un campionamento ogni dieci periodi io aspetto che mi arrivano dieci impulsi di trigger e poi aspetto delta t altri dieci impulsi di trigger e altro delta t quindi in qualche appunto deve essere scritta un'affermazione che mi sento raccontare agli esami però non ho capito dove sta scritta perché se no la cancellerei perché ogni volta devo correggere lo studente mi dice no la modalità di tempo sequenziale si utilizza quando conosco il periodo allora voi il periodo non lo conoscete mai e lo conoscete sempre cioè voi non lo conoscete mai se io vi do un segnale nell'oscilloscopio vi dico quanto è il periodo voi non lo sapete dovete andare a fare misure cioè non lo conoscete mai l'oscilloscopio il periodo lo conosce sempre perché ha il circuito di trigger che trasforma il segnale in un treno di impulsi un impulso al periodo quindi l'oscilloscopio il periodo lo conosce sempre in questo caso lo usa nel campionamento a tempo equivalente asincrono non lo usa ok non è che in un caso lo conosce e in un altro caso lo conosce perché lo studente medio mi dice il campionamento equivalente sequenziale è quando conosco il periodo asincrono è quando non conosco il periodo io lo conosco sempre non lo conosco mai in un caso lo uso in un altro caso no asincrono perché dico che non utilizzo il periodo perché io nel caso di tempo equivalente asincrono campiono usando un termine tecnico a rocoyo coio così metto là e campiono come capita però se io prendo un punto qua un punto qua un punto qua cioè io campiono a una certa frequenza quindi a una certa distanza fra i campioni ma se mi capitano in maniera strana io poi come faccio a metterli sullo schermo nel posto giusto vedete questo punto l'ho preso qui io voglio sempre andarlo a mettere nel posto giusto quindi devo poi andarlo a mettere qui come faccio a ricostruire correttamente il segnale nel tempo di campionamento asincrono ho un circuito che mi misura la distanza tra il campione e l'istante di trigger quindi io devo vediamo come è fatta la memoria nei due casi nel tempo reale io i campioni li vado a mettere abbiamo detto uno dopo l'altro nel tempo di campionamento sincrono o sequenziale dove vado a mettere i campioni è sempre uno dopo l'altro perché il secondo campione sarà quello da mettere subito dopo il terzo sarà quello da mettere subito dopo il quarto sarà quello da mettere subito dopo nella modalità di funzionamento asincrono io riempio la memoria andando a posizionare il campione immaginiamo che questo è l'istante di trigger il secondo campione sarà messo ad una certa distanza dal trigger che io ho misurato questo è il campione 2 il terzo campione magari è questo ho misurato la distanza dal trigger è più vicino del secondo e lo metto prima allora ho questo circuito che si chiama interpolatore fine che è un circuito che misura i tempi in maniera molto accurata riesce a misurare il picco secondo e quindi lui vede ogni volta qual è la distanza che c'è tra l'istante di trigger interpolatore fine su questa modalità di funzionamento ancora qualche considerazione perché è più un po' più complicata di come sembra facciamo un esempio numerico così ci capiamo immaginiamo allora vi ricordo lo schermo è fatto di 10 quadratini orizzontali immaginiamo di avere un microsecondo a divisione quindi ogni quadratino vale un microsecondo quanto vale l'intera finestra di osservazione vale 10 quadratini 10 microsecondi immaginiamo di avere scelto m punti di pre-trigger ed n meno m punti di pre-trigger metà in metà immaginiamo di avere n pari a 1000 1000 punti di memoria 500 di pre-trigger e 500 di post-trigger che vuol dire vuol dire che la mia memoria è fatta di 1000 locazioni la locazione centrale è quella del trigger rispetto al trigger che cosa vedo 5 microsecondi prima del trigger e 5 microsecondi dopo il trigger ok 500 punti vuol dire che ogni punto quanto è distante dall'altro 500 micro diviso 500 vuol dire 10 nanosecondi allora immaginiamo questo è il tempo zero il campione successivo è meno 10 nanosecondi il campione successivo è più 10 nanosecondi più 20 più 30 più 40 mi ho perso mi ho perso allora presenta allora un microsecondo a divisione questa è la scala dei tempi e ci siamo 10 quadratini 10 microsecondi altri dati inventati ma più o meno credibili immaginiamo un oscilloscopio che ha una memoria fatta di 10 di 1000 locazioni queste 1000 locazioni le devo utilizzare scelgo di mettere il trigger al centro siccome tutto questo tempo di osservazione abbiamo detto che è 10 microsecondi vuol dire che saranno 5 microsecondi prima del trigger e 5 microsecondi dopo il trigger poiché ho 1000 punti 1000 punti 10 microsecondi 1000 punti vuol dire che ogni punto è distante dall'altro 10 nanosecondi 10 micro diviso 1000 10 nano che succede? arriva un campione io misuro il valore della tensione e misuro la distanza dal trigger e se mi arriva un punto che è distante dal trigger 27 nanosecondi che faccio? se io ho detto che è un punti a 10 un punti a 20 un punti a 30 un punti a 40 un punti a 50 e il punto a 27 che me ne faccio? allora facciamo le cose facili immaginiamo un punto che è distante dal trigger 7 microsecondi è fuori dalla finestra di visualizzazione lo butto ok? quindi io sto là prendo campioni ma uso solo quelli della finestra che ho deciso di vedere quindi butto quelli troppo lontani attenzione questo è un segnale periodico quindi potrebbe capitare che un punto che è 7 microsecondi oltre potrebbe essere 3 microsecondi distanti dal trigger successivo quindi potrebbe anche rientrarmi nella parte precedente quindi questo è meno 5 e più 5 comunque scelgo solo quelli che sono troppo distanti dal trigger o troppo presto o troppo tardi li butto ma butto pure un sacco di punti che stanno dentro ma non sono quelli giusti perché io alla fine dovrei prendere solo quello a 10 quello a 20 quello a 30 quello a 40 quello a 50 secondo voi che possibilità ciò di prendere proprio quello a 10 nanosecondi quello a 20 nanosecondi quello a 30 nanosecondi potrei stare là pure giorni non lo riempirei mai questa memoria allora che faccio in realtà ognuna di queste locazioni rappresenta quella che si chiama una time slot uno slot temporale in cui il costruttore stabilisce di dire sì 10 nanosecondi ma magari io vanno bene quelli che vanno dai 9 agli 11 cioè prendo un po' di spazio intorno a questo punto e ci metto dentro il campione se per caso un campione a questa distanza dal trigger allora voi vedrete in questi oscilloscopi che funzionano così vedrete mentre normalmente vedete l'immagine che vi si disegna sullo schermo in maniera sequenziale in questi qui vedete l'immagine che vi si disegna puntino per puntino e che succede se mi arrivano due punti a 10 nanosecondi perché casualmente me ne possono pure capitare che anziché capitarmi tutti quanti poi mi iniziano mentre sto finendo di completare la memoria me ne capitano qualche altro in punti già piedi i costruttori decidono o buttano il più vecchio e si tengono il più nuovo o fanno la media fra il più vecchio e il più nuovo a seconda dei casi in qualche caso fanno l'inviluppo cioè mettono dentro il più piccolo e il più grande dei valori in maniera che vi fanno vedere la traccia un po' più spessa comunque con queste modalità di funzionamento voi avete che potete avere uno oscilloscopio che funziona a 1 GHz di campionamento che vi fa vedere sullo schermo segnali ripetitivi che magari hanno come frequenza massima di anche 500 GHz ok? cioè non avete più limiti nella frequenza che potete andare a rappresentare tramite l'oscilloscopio scoprirete in laboratorio che ovviamente le funzioni che un microprocessore vi può fornire saranno infinite cioè voi potrete su questo segnale acquisito sono dei numeri dei numeri su un computer ha dei numeri su un computer potete pensare di fare qualunque tipo di elaborazione una sola attenzione ragazzi molte delle funzioni che vengono proposte dai costruttori non sono legate al segnale ma a quello che vedete sullo schermo che sto dicendo immaginate che voi sullo schermo vedete un segnale fatto così se voi gli chiedete il valore medio non vi sta dando il valore medio del segnale inteso come valore medio è il segnale sinusoidale quindi vi ricordo che in un segnale sinusoidale il valore medio sarebbe il valore medio di un semiperiodo ma lui vi fa il valore medio di quello che vede sullo schermo ok quindi attenzione tutte le funzioni che vi vengono fornite automaticamente oppure immaginate gli chiedete il valore massimo ma se voi gli avete sommato una componente continua per vederlo meglio e lui vi fa il valore massimo vi fa questa distanza mica vi fa il valore massimo come questa distanza gli oscilloscopi un po' più raffinati hanno sia le funzioni legate al segnale sia le funzioni legate a quello che vedete quindi sono oggetti molto sofisticati quanto più è sofisticato lo strumento che avete davanti a voi tanto più dovete stare attenti a capire quando vi potete fidare dei numeri nelle esercitazioni di laboratorio noi vi daremo alcuni segnali da misurare scegliendoli proprio con cattiveria in che senso vi faremo vedere una serie di situazioni in cui se non state attenti il numero che leggete è completamente sbagliato questo sia per le esercitazioni con i multimetri sia per quelli con lo oscilloscopio l'obiettivo delle esercitazioni è di farvi prendere dimestichezza con lo strumento ma di mettervi in guardia circa i risultati che è uno strumento potente perché lo oscilloscopio numerico inizia a essere uno strumento di una certa potenza diciamo farvi stare attenti sui risultati che effettivamente riuscite a cogliere vabbè il rumore di fondo ha superato il livello di... ok ragazzi lunedì facciamo un po' di esercizio ancora grazie a tutti